Il retro fa girare bene sull'uomo, l'avanti muove se è bene, sai, si cacchi sull'uomo Anyway tipo la forma si rinchiolto bella con il destino Non l'avanti non ecce. Sì sicko, sa il n Joint self felli CyEObolte è rundire Si è vertical sull'uomo Scusa Gionna Arriva arriva No la mano lo sarò scurato C'è anche l'esterno Ma io stai marcaturre ragazzi Ma io stai marcaturre Mi dici su l'uomo Si tessi calcattivi Scusa Gionna Stai marcaturre dietro Come stai? Tra l'uomo Corri dentro bravi bravi via via bravo 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 dai dai giriamo come prima dai non è possibile dai dai cdc esatto esatto bravo 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 scontati ragazzi scontati ragazzi non è che ci hanno un gran gioco dai cdc 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 bene buona ah! davanti cerchiamo ragazzi non sono niente che dire che è il tiro c'è il centrale l'amore del cuore no 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 vado bene vado bene c'è il centrale si sta parte ho preso il ruolo ciao calma andiamo vicino oh torniamo torniamo bravi bravi facciamo di correre va bene va bene va la capa sinistra 100 100 100 100 dai cerni dai cerni cos'è l'uomo dietro dietro che morchio dai raga ci si da dai ah C'è un giro C'è un giro C'è un giro C'è un giro Proc C'è un giro Dai, teo Dai, teo No, 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 no Stiamo sbagliando troppo Stiamo sbagliando Possiamo iniziare a partire Se sbagliare così tanto Dai, dai, dai Andiamo in giro Tutti Nostra Buona Perché vedete Sembra che aveva tappo il net Centro, centro, centro Non lo facciamo impostare Non lo facciamo impostare Stiamo attaccati Di Un tetto Un tetto Sbaglio manente Spaglio manente La scuola è maldita Spaglio Spaglio Spaglie Spaglio 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 non c'è se ci sono io credo che c'è la vera bischia allora grande tante bravo vediamo se non vogliamo giocare cazzo se vogliamo questi qua su eh eh qua a sinistro poi andiamo al progetto e se si si come andiamo a questa partita eh e aspettiamo 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 troppi passaggi troppi 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 non è sicuro che lo so che ho fatto alla barri c più 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 perché è quindi è meglio fare ovisto messa però non ci schiacciano troppo ma come guarda la mia va bene che è mio chiamala uomo dai andiamo su alca la calma Ok Un po' Fallo E' così, bravo Ci proviamo alla testa Bene... E' la scossa, sopra And hazırla Nole ci facciamo un po' di saprisa E' sempre feruto più Per te c'è la parte c'è la parte c'è la chiudiamo la centrale bravo ma che fallo è? ma che fallo è? in che prossima volta lo zapp il 26 arriva questa fuori io lo prendiamo mia 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 subito 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 andiamo subito 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 sub Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, sì, sì Sì, sì Sì, sì, sì Sì, sì Chiudo, chiuso, chiuso Vai su, vai su se chiudo Vai, vai, vai Vai, vai Vai, tank è tua Ok, devo uscire Sì, sì Adesso va dietro Non si allarga Buona, buona Sì, grande tank Grande tank Vai, vai, vai Stiamo lì, stiamo lì E' altri Sì, dì, dì È tu, Giulio E' altro, Giulio E' altro, Giulio E' tutto, Giulio Alla Si, lei Cosa Da Ci sono Ciao, Giulio Eh, Giulio E' giù Come si Ma non Ma non Ma non Ma non buona nella strada la mano calma 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 alziamoci 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 si si alziamoci alziamoci a destra giugno nonostante centrale bravo genio gestiamolo per bene bravo il bravo genio nonostante nonostante arriva arriva bella grande tanke bella 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 copriti copri marco copri marco stiamo sul libro di tua buona 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 via 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 bravo il bravo bravo occhio giuli occhio giuli per te e ovunica tu su su sul secondo solo sul secondo eh raga da solo andiamo a fare gol non c'è portiere calma calma con calma senza fretta si dai si dai che lanciano su silenzio lancio solo mancava il portiere mancava il portiere c'erano essere due difensori ci devono essere se manca il portiere finita scusate l'ultimo cambio non serve una cosa fare allora che serve ultimo becchi con 24 lo si può vedere ok 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 che via e paio è vero eh giusto così in quelli che contano guarda dai due che vivi dunque raga solido difenso della gestione della partita che andava chiusa e andava sofferto un po' meno il passaggio manco eh non sapevo cosa si lo so ma non sapevo cosa fare quando è così sempre non ridina mai in mezzo al campo non ridina mai mai prossima volta faccio un cambio lancio lungo su Will su il bravo che c'è che vedi me vengo ecco per quei tanti volti che io ho salvato il culo mi posso fare un po lo so allora raga raga silenzio silenzio allora l'omega phoenix amato il 3 a 0 l'italiano street quindi volessi qualcuno pezzi ma come lo voglio bene devo ancora uscire non vuoi sapere che l'ultima volta mi ha scritto un mark mi ha detto che si è pentito di aver fatto una cosa spettacolo però ci ho messo il nome sto cazzo poi allora i black wolves ha battuto i parma appartamenti poi aspettate raga silenzio gli n revolution soprattutto i mad gunners che ci hanno fatto un'altra volta sì 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 sono alex da iu e l'alга lilli ah i won crew hanno battuto i brescia 3 a 1 I uomini sono quelli bravi No sono quella della squadra Sì provetti bravo Grazie Grazie Sono passati anche Ma i merda? In me stanno contro il club che si è creato Nubi Ah contro ste? Contro Nubis Non so se non è Nubis No quello che si è creato ste era ridere A Nubi gay Che te lo metto proprio buono Che c'è un club che non ce la metto un culo Ma il club è un culo Perché c'è un club che fa A me è sentito in culo Ora sta meglio Minchia per farti capire quando cago buono dopo Che cibo Madonna No 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 Spacco spacco tutto il bagno C'è comunque in quel video quando uno Mamma mia che ci cagai in bocca Beh Non conoscevi sto video Stavano in doccia Certo che ragazzi Ragazzi Se la Juventus non vince la Champions Con Ronaldo e Suarez di Bala Si può disischiare tutti i campionati Perché Suarez non è vero Non è che è lì già Eppure di Bala Ragazzi Zitti zitti che secondo me Messi veramente lava No 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 Mazzini No 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 abbiamo via ragazza abbiamo via c'era è vero che lì di sole si tiene ma donna oltre la leggera occhi l'allenamento aspettate altro risultato i mighty gregole ovvero i cosi i cosi i pirati stavendo 2 a 0 non è che non usciti no come terzo sono passato a New York terza non se vuoi fare i guardi di finale con il nerd porca mignota eh anch'io voglio quella anch'io voglio quella porca tra me no 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 non farlo ah secondo me siamo tutti spaccati qualche braccio la scuola se vuoi non la play la tv si aspetta il risultato dei nerd della carralese poi sanno tutti secondo me carrerese ha vinto contro i nerd no non sono contro non sono contro attenzione dice la Juve non molla a Dzeko ma nel frattempo avanza spedito per Suarez quello quanti anni fa c'è ma stanno dicendo tutto morriva pure Messi no vabbè ma di marzio di solito quando dice le cose lui qualcosina zecca no dai anche pedula anche pedula c'ha zecca no vabbè c'è come si chiama un altro c'è della crescita attenzione occhio occhio stavo scrivendo i nerd soldier vediamo c'è Hans c'è Hans stava scrivendo ma ha interrotto la il tapping eh ma ti scrivi il primo oddio che sei passato che bella quella cosa proprio hanno vinto 2 a 1 no no bene bene così così più va andavamo con una squadra secondo me scandalosa andavamo con una squadra secondo me scandalosa andavamo con una squadra secondo me scandalosa sono arrivati i quint ultimi in serie nelle nubis manca solo la carralese Mattea Cassani corre il senestro corre il senestro è il calzopiede chi è che sei guardando le mie storie sto cazzo lo senti lo senti lo senti la tua tupina Mattea Mattea mandatemi l'invito ora è tutto il senatore che sei guardando le mie stadi il senatore esas ma quello che fa il centrale di difesa si fa tutti i ruoli non è che invece l'altro che lo sogno ma è sempre lui no il figlio al bambino lo porta via desolato dai vieni ma la massa grande è più durario sassi che erano diecimila vuitton così si tratta che in tutto il paese figlio ho visto figlio figlio che il padre lo sento un padre figlio dai lo scherziamo attento ragazzi non si offende cosa no no cosa no dai chiede un gran campante tanta roba ragazzi attenzione perché sparvi mi ha messo ok su tutte le forze affiammata ma chi è ma chi è ma chi è ma chi è il sereno oh no le fattata si faccio il caieri faccio eoo mi piace so contenta rosa di cui un'uomo rosa dove siamo? è ancora un po' si legge un libro chi? per rilassarsi gioca ai videogame chi? per rilassarsi si fa una dormita io invece da buon samaritano di quali sono ti rilasso così forza dio bellissima questo è un baca non capisco come Alex era il mio maestro era il quinto a me ha messo l'obbligazione l'everton lo sbocco il sbocco il cazzo ma che bella è sta foto sbocco c'è il finale playoff si segna il 95 panico il filo è resto ma invasione brutta questa ora si va fiolla lì ora si va fiolla lì un po' muoviti i i i i i i i e Oggi a Carrara Stanno scrivendo Oh Chioga bene bene Ah sono supplementati Ma Chioga che ha 3,2,2,3,4,7 C'è lo sono a memoria No ce l'ho avanti Ragazzi volete sapere quella cosa più bella che ho visto oggi Sibe che scrive sotto il posto degli uphawk Sì mi ha sentito riscritto Sì ci puoi provare anche il mio redatto Ma io penso che a sentenza manca in serie di posto a giocare Ma io penso che a cazzeggia Perché se si mette a giocare a serio Come era Ho avuto un bel feeling Giocava bene Però Lui si sente troppo E oggi hai visto perché la squadra sua ha chiamato delle persone sulle Se mi hai cazzato già Andavo lavorando con il pallone Perse tutte Ma io dico una cosa Se sto facendo un torneo E di aspettare 40 minuti per i quarti di finale Stanno sperimentare Ah non è iniziato tanti Però secondo me se vai in una squadra proprio non c'è nessuno Bravo esatto Quello deve andare a lui Lui adesso è che mi fa veramente giro E' una cacca nè se sei freddo No, 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 no Ma lo cercano un attaccante? No, no, un esterno E' in istra? Si, si Allora, allora Non lo vedo molto bene come esterno, onestamente, a 5 No, non si Secondo me si, ma non lo vuole fare lui Non me l'ha detto L'esterno sono una squadra top, tipo wow Sì No, non è un problema A me ieri rimane scritto Ma che ha suficialmente separato la torna L'ha detto anche come esterno Si E tu? E tu? No, no, no Davide, ti ho mandato la spiegazione su Instagram Si sta caricando Mi dispiace perché se non c'era quella caccia lì la sera In una breve caccia lì Hanno vinto Nessuno, ancora non hanno aggiornato O comunque il capitano di Revenge ha dato il cazzo Nei 5 minuti a scrivere quando iniziamo E ho capito che stanno giocando Ho sbagliato GIF Noi, no E ho capito, la prima volta di qui Dei Revenge, ma adesso non è a cerrare Cioè sta facendo con gli Omega Phoenix in realtà in realtà non ha la cosa di revenge sono i dtrf si usa a palermo si usa e vabbè lui nessuno se l'ha comprato i dtrf ma io dico una cosa non è che fanno una spaccatura sulla club l'euro allucinante tutte le squadre che hanno presi slot dgc o vincono o se scioglono win or go home si sa da solo il mio ma dico una cosa poi tutti prima erano 5 no 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 abbiamo parlato ieri di questa cosa qui diciamo a loro che sono soldati per le persone leggerendo le persone che è stata cosa facevi con la next gen quando usciva loro hanno fatto tre opzioni anzi due opzioni o fare una stagione che si confruteva a gennaio e poi dividere i tornei un po su ps4 un po su ps5 però non cambiare classifico di niente diciamo che ufficialmente eserirlo su ps4 oppure fare tutto su ps4 il competitivo su ps4 oppure fanno tutte le altre leghe tutti gli altri giochi fanno così e poi su ps5 22 stati sicuramente su a next gen e si è pulato per quello quindi al 90% si farà così però non si faranno più queste stagioni al 90% saranno tre le stagioni perché intascano più soldi visto che sono a pagamento adesso si fanno più partire a settimana ok è finito ragazzi mi so sì sì è finito ah no non è finito ancora non ho scritto niente ma io dico una cosa no forse sì no invece no forse sì sì è finito scusateci se ho mai perso la carralese no 1 a 1 e poi si ha perso la carralese ma ha vinto il reborn nei rigori ma io so se si rivolgono ah ci hanno eliminato al torneo l'altra volta si c'è giunto esso ma sono una squadra appena creata ma non giocano male sai giochiamo un bel calcio allora giochiamo contro gli omega eh sono forti questi ragazzi eh quindi guarda che sono bravi arriva il mentino si sono forti impegniamoci ragazzi si vabbè quello è ovvio va bene va bene va bene Ok metto i ruoli e partiamo Dai eh ragazzi Dai che chi dorme non piglia pesci Dai ragazzi Ricominciamo? Vai vai Se dobbiamo ricominciare ricominciare Dai 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 Basta la musica ora non metterte del più Quindi certo Di Tongue EBT Non sono entrato ieri... Si dai 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 Ricomanda non ai crimine Non essere contrato la mia cosa Potendo operare non è passato Dai dai aku e questi c*** di formazione lanciano ziehenzzi sих phenomena Michele dai sti c***i sottileva noi sentonis un po' c'è c'è il vento centro 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 sto perso dai, tiriamo sta pallo a basso se ci siamo centro centro bravo giulino cammò c'è gustico bravo giulio bravo 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 Sai che lag Bravo Grazie attUCK ok bravo Will no 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 oh no no oh no 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 oh che genna oh ce l'ha rimessa lunga mi sa no vabbè ma non serve sono qui vicino vabbè serve il senso in aiutare sinistra il centro del numero triangolo un po' messo messo prodillo davide prodillo dai 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 se vuoi la terra non lo sapevo di che si l'unico l'unico il posto sbagliato se c'è una persona che ha avuto non c'è potremmo internare dalle skill che non sono diventi ripresa bravo c'è un finale c'è un finale c'è un finale c'è un finale hai visto fucile al meglio via via puole e meglio il cavolo che non è a cont Wear ma la rosa o no i piccoli i piccoli parte teo tu tu ok che lui è lui a destra ragazzi lo possono fare bravo 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 no vengo io parte tanto molto no perchè indiesi no 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 buona tolva la bd comprimi il secondo te scegliamo a scegliamo chiamiamo a destra che il suo terzino non è molto bravo ancora il nostro c'è un'esercizio Yeeus oh Duuuuu calma calma Ecco qua c'è un'altra parte c'è un'altra parte un outono non si può riuscire received un'altra parte centrale d'avuto Desc'è lo a tutti Cuo' premiamo di Renzo voteseltri dietro Hurri Vivo 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 ciao bravo già e con trust pressissima bravo teo voglio di muovere ora no dai dai no Buono, buono, buono Non teniamo ancora noi? Mi ha deciso di vita, non c'è Sai tra il dc, la passano in mezzo? No Bravo Ma male skill, male skill Vado io vicino, vado io vicino Vado io vicino Vabbè, giochiamo, giochiamo, giochiamo Ok, fuori gioco Dai ragazzi, così non c'è più 2-1 Non ci stiamo cambiando noi Dai Dai Madonna Eh, non so Dai, canca Guardate anche a sinistra No Mi sono andato la cardinina E allora ho potuto riprovarla Vabbè Sergini C'è anche Angelic Sì Sì Vai Sì Gли strategia Poi Vogliamoci Poi Gli Ah Poi Poi e ti angolo dai dai fattura 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 giulano 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 bravo giulano calma calma basta 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 siamo soli abbiamo bezza siamo soli siamo soli sono soli sono soli sono soli sono soli bravi 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 grande grande grosso rock ebay oh dai concentrati concentrati baciamolo e fissiamo aiutatemi prendi quella davanti nooo ma c'è tutto quello ci vediamo davanti sì ci vediamo ok ok al centro ci vediamo 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 qui lasco in solo si si bravo 野 non c'è vicino bravo giulì bravo dietro a me l'ho detto da vicino a te no che quella palla genna è pericolosa ma è che siamo un metodo vicino chiudiamo l'arco chiudiamo calma bravo giulì l'arco il 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 l'esercizio 12 testa testa calma raga così saltiamo sempre saltiamo la palla è una data di visto davvero figa non difesa regolare ragazzi che si paghi in aria Vai su, si bagga in aria Vabbè Ah Bravo G Dai Gennaro, dai Gennaro Chiedici in treo Chiedici in treo Ah raga raga uuuh Senta che ti porti Bravo Teo Grande te Ragazzi Ah Scusa Nobio Bellissimo attiro Un cdc indietro Un cdc indietro Uh, 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 la viaggio, il cortiere è una, non il tiro. Si, si 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 si!!! Calma, calma. Luggo, Laggio. Adesso non fu, eh. È un giallo? Abbiamo già... Un terzino. Fai, raggio... Vai, no. Non lanciano, non lanciano Sì, come lanciano Eh, no, cioè, non subito, che vero Calma, calma, calma Dove cazzo vai? Cazzo di bug, che p***a Sono il primo bug Quello con le scarpe bianche Carmi più alti Calma, calma, calma Ma perché? Buono, buono Comunque ragazzi Ragazzi, è solo una cosa per dirvi La mia palla B è da antologia È da antologia È da storia È da storia del calcio La storia del calcio No, ma via Io non mi sono incazzato con il tiro Era correttamente eccitato per il mio passaggio Che ve lo segnasse, capito? Non ce l'avevo con te Bello, tutta la difesa sotto 8 Bello, via Bella sta cosa Gran gol via, sì Crocchettata Ma secondo me Ammo su Ah, l'alba Questa è una realtà Questa è una giocata di merda Il calcio è strano Peppe La volevo rivedere Fabio Libia sta sposta a casa sola Quindi Diciamo una cosa Diciamo anche una cosa Che Stavate abbiamo lottato Comunque Abbiamo lottato Che dietro stasera stiamo giocando veramente molto bene La differenza proprio di quando ci rimette la testa Quando non ci rimette Ma io Lo conosciamo come giocano sempre sulle facce Poi Se ti hai sbagliato E ti hai sbagliato No, per completare ci vogliono i nerd Lu No 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 No